Un itinerario Un italiano Inizia Intervisto del giorno Con Denis Prima Volta a Koumiana No, la Koumiana Yes Voi sono vero Non è caldo Oh, non lo so Schiaffone Schiaffone Bella Marta! Sì, non voglio solo di ripetere cos'è detto. Oggi si pesta. Vamos! Oida, cosa succede? Urto! Sì, non voglio solo. Sì, non voglio solo. Sì, non voglio solo. Sì, non voglio solo. Prego, prego! Sì, non voglio solo. 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 Sì. madonna mia che rilancio oh merda oh merda 2 hours later Grazie a tutti.